Dobbiamo salutarci con la consueta rubrica dei 5 dischi da Isola Deserta Noi chiediamo sempre a ogni ospite se ha magari 5 dischi solo Non sono molti però da consigliare magari condividere con i nostri amici a casa Assolutamente, vabbè sicuramente andrò a dire dischi o cose che conoscono tutti Però insomma dischi che ancora ascolto a distanza veramente di anni Da il The Best Live di James Taylor Con la batteria il mitico Carlos Vega che secondo me è ancora oggi uno dei più grandi in assoluto Metterei un Syncronicity dei Police Metterei anche un bel Best Off in generale dei Toto Col buon Jeff Sono a quota Abbiamo detti 3 3, vabbè mettiamoci pure insomma un po' di Sano Rock Mettendo pure un po' tutto quello che concerne le Zeppelin Secondo me è un disco italiano che per me mi ha cambiato un po' Mi ha cambiato sotto tanti aspetti che comunque è oltre di Claudio Baglioni Che secondo me è ancora oggi un disco che sembra registrato ieri Quindi con Manu Cachea la batteria Manu Cachea la batteria e con Tony Levin Iano Palladino Grande sezione rizzo Steve Ferrone Insomma tutta gente così Però no che hanno suonato proprio per la musica E si sente che questo disco è suonato proprio dalla prima all'ultima nota Grazie a tutti